tutto pronto allo stadio nuovo di asciano fischio ad inizio per questa partita tra virtus asciano e olimpic sarteano dunque calcio di punizione per olimpic sarteano subito martino contro mele prova a superarlo con una serie di finte attenzione il tiro di martino grande parata da parte di marchi attento il porterone bianco verde perde questo contrasto al centro campo nuova rimessa laterale per il sarteano e batte subito veloce cercare l'attaccante quest'oggi maia rossa prova al cross al centro attenzione il tiro marchi gradissimo su questo colpo di reni da calcio d'angolo per la virtus pronto veglio rossa al centro a cercare de santis va in aria ma non riesce a deviare bene verso la porta va da farfarini ancora bernardini che calcia bene verso barbie attenzione il cross al centro da parte di barbie attenzione qui tocco di mano da parte di bertini sembrava esserci il tocco di mano veglio dalla bandierina per questo terzo calcio d'angolo al centro a cercare de santis che di testa non devia verso la porta pronto martino alla battuta va al centro proprio verso la porta marchi pare in qualche modo attenzione ancora il tiro di morgantini sulla linea salva tutto la virtus attenzione azione non è finita bene in casa attenzione salvadori prima al destro che termine in rete ma offside sarà dunque rimessa laterale per la virtus asciano anzi no con cinque secondi di anticipo termina qui il primo tempo pronto alla battuta beppe schillaci molto coperto baglioni portiere del sarteano pronto beppe schillaci punizione attenzione schillaci si riparte da un calcio di punizione per la virtus asciano sul punto di battuta bene in casa che allarga verso marcocci e prova addirittura al tiro baglioni ci mette i pugni in qualche modo poi scomposto bertini all'interno dell'area di rigore e parte in contropiede proprio il numero 17 guerrini che allarga su martino e prova ancora numero sul numero 17 attenzione il numero 18 guerrini martino che si posta passo mezza difesa bianco verde attenzione ancora martino martino all'uno contro tutti alla fine è costretto a appoggiarsi su guerrini marco e va via uno attenzione destro di guerrini sinistro grandissimo sinistro da parte di guerrini che termina all'incrocio dei pali della porta di marchi l'arbitro dice che può bastare così al novantaduesimo virtus asciano 0 olympics arteano 1